Qui per la nostra diocese si tratta della sede del seminario che ora viene consegnata all'Università Cattolica una continuità direi dal punto di vista dello scopo educativo e anche devo dire il segno di un'attenzione al mondo dei giovani, al loro futuro e quindi io colgo anche l'occasione per ringraziare per questo lavoro, per quest'opera che veramente è stata pensata, progettata e attuata ad alto livello da tutti i punti di vista.